Non ci credo che rimarremo qui sopra per dieci giorni. Scusami se ti ci ho trascinata. Presta attenzione. Se vuoi risolvere un crimine, devi prima imparare a dubitare delle illusioni. I dettagli contano. Stanotte, uno dei nostri ospiti è stato ucciso. Non ci credo! Questo orologio vale più di quanto guadagni in un anno! Qualcuno deve dirgli qualcosa. Non devi essere sempre tu, però. Ma io sono brava a farlo. Abbiamo aumentato la sicurezza in tutta la nave per garantire la vostra incolumità. E per fortuna a bordo c'è un detective di fama mondiale. Il signor Rufus Cotsworth. Oh mio Dio. Dovrei presentarmi. Tra 24 ore, l'Interpool salirà a bordo e lei sarà la loro principale sospettata. Non l'ho ucciso io. Voglio aiutarla, signorina Scott. Chiunque potrebbe aver ucciso la vittima. Ma perché? Vi farò un interrogatorio. Uno per voi. Mi parli delle sue interazioni con la vittima? Mai conosciuto. Quell'uomo era un buffone. Cazzo! Dove si trovava? Tra mezzanotte e le otto del mattino. Mia nonna non sarà affatto felice. Io non ho detto questo. Chi glielo ha detto? Stupide illazioni. Non vorrà inimicarsi la nostra famiglia? Nessun alibi, dunque. Come, scusi? Sei brava a indagare. Sapeva già tutte queste cose che io ho appena compreso. È più divertente quando ci arrivi da solo. Cosa vuoi che faccia? Vuoi che vada a spiare? Voglio che ti fidi di me. Ci sono forze in campo che lei non può comprendere. Ci sono miliardi in gioco. È un passo. Abbiamo i pezzi che risolvano. Ora dobbiamo farli combaciare. Presta attenzione. I dettagli contano. Cosa abbiamo scoperto? Tutto, tranne solamente chi è stato.